Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Ma voglio se mi sta piacendo il gioco Poi che dici? Faccio il cleanse e no Allora, allora, quella è una cosa molto sp... Non c'è neri sopra Prater, non siamo saliti noi Io la zippy, io la zippy No, però! No! Ma perché demon hai trollato? Ho detto che non sono salito, ti sei buttato da solo Rimanete 30 secondi in vita e responiamo Ah, responiamo, responiamo Ah, porca! No! No, mi sono spaventato tantissimo Mi sono spaventato tantissimo Mi sono spaventato Oh! No, in pieno c'entrano 3k Gengis Ah! Porco! Preso Poi No! La maschera che c'è tu, Joe, è scesa a 4.000 come editografe Perché non ci posso trasferire l'anello? Non puoi farlo? Non puoi farlo? Non hai... Oddio, God, una torcia Ma che... che cazzo è? Occhio Noi ora arriviamo, arriviamo, un tuo cuore, abbiamo grande tattica ora stoffe gap grande tattica io stoffe gap io aspetto qualche ragazzo polpo grinsoso ragazzi a destra amico tu devi spedermi so che deve morire malissimo no no niente visibile muori muori ma di che sono morto ma mi hai preso un attacco di core il server di riferimento per la comunità liana si chiama adriana non lo so crea sto qua a provare tutte le combinazioni due tre uno dai poicolo No No Ho perso le gambe Oh C'è un altro resto C'è un altro resto davanti No Allora Domani Inizia il Valorant Spotlight Che è questo torneo Mixed un pochino simile A quello che abbiamo fatto dello Spike Nation In cui Noi siamo stati invitati ci stanno pure Team del calibro di Giants Carmen Corpse E così via Noi ci presentiamo con Alan Nice Stark, Moshi E Suzette E Inizia domani Come torneo dell'off season Io sono un pochino impaurito Dove dovrei andare Non lo so Creia Sto qua a provare tutte le combinazioni 2, 3, 1 Dai Mi sono cagato sotto Mi sono cagato sotto 208 Forever together Ah porca No Mi sono spaventato tantissimo Poter potenziarmi Potenziarmi in prima di abilità Ma non ce l'ho Ma non ce l'ho Vediamo cosa possiamo potenziare Quello degli eventi di domini Lo spadone è ancora più rotto di prima Cosa? Dico nel domini Gli spadoni sono ancora più rotti di prima Cioè spawnano e hanno lettramente l'invincitità Che non lo iniziano a colpire Stronzata Cioè hanno lettramente l'aprio assoluto Ah il personaggio fu veramente broken Che cosa hai preso? 2 dps veloci proici Porco tu e lo quel cazzo era Vedi qualcosa Dalla zona Dalla zona L'ho cecchilato Vado a vedere cosa c'ha E il fatto che hai troppi tab C'è una quantità di tab Di roba che è insana Non è gestibile Bella armissima Stai a Tokyo Stai a Tokyo Stai a Tokyo